Le prime notizie di giovedì 24 ottobre. Ha perso l'equilibrio ed è stato schiacciato dai pezzi di un'impalcatura che stava scaricando da un camion. E' morto così Maurizio Misciali, operaio di 47 anni, originario di Collemeto in provincia di Lecce. L'incidente è avvenuto ieri mattina a Galatina, in via Modena, in un cantiere per la ristrutturazione della affacciata di una palazzina. Con una decisione clamorosa, il Tribunale di Taranto ha bloccato la trasmissione della fiction tv Avetrana, qui non è Hollywood, dedicata all'omicidio di Sara Scazzi, che doveva debuttare il 25 ottobre su Disney+. E' stato accolto il ricorso d'urgenza presentato dal sindaco di Avetrana, Antonio Iazzi, che ha chiesto la rettifica del titolo e una sospensione preliminare per appurare se l'immagine del paese venga lesa dalla fiction. Il giudice ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per il 5 novembre prossimo. Le minacce della famiglia del suo presunto stupratore, composta da noti pregiudicati, non hanno sortito effetti. Una ragazza di 16 anni, che sarebbe stata violentata in un casolare di Ceglie del Campo, ha confermato la denuncia facendo arrestare Vincenzo Guglielmi, 22 anni, di Bari. Ha costretto per tre anni sua figlia, oggi sedicenne, a soddisfare le perversioni di un amico virtuale. Nel processo, con rito abbreviato, svoltosi davanti al GUP di Lecce, la madre è stata condannata a 13 anni di reclusione e alla perdita della responsabilità genitoriale. L'uomo ha 12 anni, entrambi sono in carcere. Nascose in casa per oltre un anno e mezzo il cadavere dell'anziano padre, continuando a riscuoterne la pensione. Roberto Caracciolo, 57 anni, di Corigliano d'Otranto, è stato assolto dal GUP di Lecce in quanto due perizie psichiatriche lo hanno valutato totalmente incapace di intendere e di volere. Hanno tentato di rapinare del portafogli un anziano nell'atrio della biglietteria della stazione ferroviaria di Taranto, picchiandolo e scaraventandolo per terra. Due marocchini di 42 e 25 anni sono stati arrestati dalla polizia e rinchiusi in carcere. E a San Nicandro Garganico, due pregiudicati del posto sono stati arrestati dopo aver tentato di rapinare una coppia di anziani nella loro abitazione. Un'infermiera in servizio in un ospedale della provincia di Bari ha pubblicato la foto di una neonata che la madre aveva deciso di non riconoscere affidandola ai sanitari. In un post ha definito la donna di una freddezza inaudita, criticandola per la sua scelta. L'ordine degli infermieri di Bari ha aperto nei suoi confronti un procedimento disciplinare. A Ruvo di Puglia, il parroco della chiesa di San Michele Arcangelo, Don Ignazio Gadaleta, ha pubblicato sui social il filmato di un uomo che si è introdotto nella sacrestia e ha rubato 900 euro da una scrivania. Nel filmato il volto del ladro non è stato oscurato, l'ho fatto per mettere in guardia la comunità, ha spiegato il parroco. Torna la ruota panoramica a Bari. Dal 24 novembre sarà montata ancora in largo giannella. Con i suoi 45 metri d'altezza la ruota dominerà lo skyline cittadino per sei mesi. Meteo, ancora una giornata asciutta con cielo sereno, poco nuvoloso su tutta la Puglia. Temperature miti con punte di 23 gradi, venti dai quadranti settentrionali, mari poco mosso l'Adriatico, quasi calmo lo Ionio. Queste le prime notizie di oggi, appuntamento a domani.